Cerimonia solenne a Parigi, all'Hotel des Invalides per i funerali di Jacques Delors, ex Presidente della Commissione Europea, padre dell'Euro, colonna portante della moderna Unione Europea. Ha riconciliato l'Europa con il suo futuro, ha contribuito a disegnare il profilo dell'Europa attuale, tratto per tratto, ha detto il Presidente francese Emmanuel Macron durante l'orazione funebre, presenti a Parigi leader di tutta Europa, dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. A Bruxelles bandiera mezz'asta al Parlamento Europeo, in segno di lutto e rispetto.